Quando all'inizio del novecento nel sud degli Stati Uniti nasceva un bambino afroamericano i suoi genitori una cosa potevano fare pregare pregare che non si ammallasse subito perché non ci sarebbero stati soldi per le medicine e pregare che non gli fosse troppo grave quella gerla che ogni pomeriggio che Dio metteva in terra andava riempita con cento libri di cotone è il caso di James Cleveland Owens che si ammala subito polmonite due volte e a tempraforte resiste i genitori credono che le loro preghiere siano state esaudite e no quella gerla piena di cotone non è così grave per lui perché realmente ha le ossa e la struttura muscolare di chi andrà lontano a te e quando va alla scuola superiore che per lui era un istituto tecnico diventa il più veloce sprinter d'America per quelli della sua età si toglie anche qualche altro sfizio per esempio eguagliare un primato del mondo e batterne tre diciamo quattro primati del mondo il tutto in 45 settimane settimane beh certo deve essere un bel fuoriclasse perché quattro primati del mondo in 45 settimane sono proprio in pochi a poterli battere no in 45 giorni no giorni signori non c'è proprio la possibilità fisica infatti non sono giorni sono minuti 25 maggio 1935 Ann Arbor Michigan finale della Big Ten Conference di atletica leggera e Ohio State era ed è parte della Big Ten il primo record lo batte alle ore 15 e 15 si era sorpresa perché al mattino si era presentato al campo e non era in condizioni di competere perché aveva preso una botta all'osso sacro giochichiando a football e poi in fraternity bulleggiando o l'avevano spinto sulle scale o era caduto male in acqua e l'osso sacro doleva veramente e quindi infatti arrivato al campo la mattina non riusciva a piegare le ginocchia abbastanza per poterle toccare con le mani il suo allenatore dice bravo bravo Jesse veramente l'ideale alla finale a Big Ten Conference si presenti queste condizioni e adesso mettiamo qualche cosa fatti massaggiare poi fai quello che puoi il primo record 15 e 15 il secondo record 15 e 30 il terzo record 15 e 35 il quarto record alle ore 16 mai nessuno così e sono pressoché certo di poter dire mai più nessuno così uno di questi record è quello in salto in lungo il suo coach gli disse com'è un salto coach posso fare con sta schiena un salto sì ma visti i risultati delle prime due prove io quasi quasi lo farei se poi te la senti 8 e 13 primato del mondo con quel salto sarebbe arrivato nei primi dieci a Pechino 2008 resisterà 25 anni quel primato Cecilia Cecilia ti ricordi di Eleanor Holm? Dai Eleanor la nuotatrice avevi bevuto quella sera lei? Lei di sicuro Eleanor beveva sempre I'm an old cow hand from the Rio Grande but my legs ain't bow and my cheeks ain't tan I'm a cowboy who never saw a cow never roped a steer cause I don't know how sure ain't fix it a study now oh hippie iokai 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 oh hippie iokai